Radio 40 Web in contemporanea con Retti Radio Network, Radio One Time presenta Talent Show alla scoperta di talenti Conduce Falco DJ Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, 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 tre. Due, due, uno, zero. Bene, bene ritrovati, bene ritrovati su Radio 40 Web, Retti Radio Network e Radio One Time. Saluto i miei amici Lorenzo Contrò per quanto riguarda Retti Radio Network e Fabio Marchi per quanto riguarda Radio One Time. Ricordo gli streaming per ascoltare le emittenti radiofoniche. Per quanto riguarda Radio 40 Web basta andare sul sito internet www.radio40web.com. Mi raccomando il 40 scritto in numero. Per quanto riguarda Retti Radio Network basta collegarsi a streaming al sito www.retiradionetwork.it e per quanto riguarda invece Radio One Time basta collegarsi sul canale di Spreaker www.spreaker.com e andare a cercare il nome della radio Radio One Time. E lì scoprirete delle belle, potete ascoltare anche i loro programmi e seguire le tre emittenti radiofoniche. Ma seguire le tre emittenti radiofoniche in questo venerdì 28 gennaio 2022 sono quasi ormai passate le ore 19. Crediamo che il programma va in onda dalle 19 alle 20 in diretta su queste tre emittenti radiofoniche Radio 40 Web, Retti Radio Network e Radio One Time. Vi ricordo intanto saluto anche tutti i radioascoltatori delle tre emittenti radiofoniche, la principale radio che manda in onda il programma Talent Show alla scoperta dei talenti condotto da me medesimo Falco DJ e Radio 40 Web. Poi in esclusiva, in contemporanea, alla diretta di questa puntata, ci si aggiungono anche Retti Radio Network e Radio One Time. Ho già fatto i saluti di tutti quanti voi. Vi ricordo che il programma Talent Show alla scoperta di talenti è sponsorizzato dallo sponsor superparma.it. Cosa significa? Basta andare su Facebook alla pagina di superparma.it e ne troverete delle belle per fare la spesa online. Detto questo, noi proseguiamo, andiamo avanti subito con la prima canzone, la prima canzone che apre questa puntata del Talent Show. Lei si chiama Viola, è uscito il suo ultimo inedito che si chiama Dirty Love, si intitola Dirty Love. Ci ha lasciato anche un buon saluto, un bel saluto per tutti quanti voi. Noi facciamo ascoltare il tutto e poi in sequenza la canzone di Viola dal titolo Dirty Love. Signore e signori, non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon ascolto. A tra poco, ciao voglio! Ciao, sono Viola e questo è il mio nuovo single Dirty Love, che potrete trovare su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il video. Ne approfitto per inviare un grandissimo saluto a Radio 40 Web e a tutti i suoi ascoltatori. Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Signori, signori, non andate via E mi raccomando, manete con noi Buon ascolto di questa canzone Di lei chi è cool in aria O cool in aria Signori, a fra poco Ciao agli uncelli Ciao sono lei chi è, vi lascio in ascolto del mio singolo Cool in aria o cool in aria Buon ascolto amici di Radio 40 Web La radio che non ti aspetti Quella pancia che cresce senza autorizzazione Senza chiedermi ma è permesso di chiedermi ma è permesso di chiedermi un'accesso Un'anarchica che impazzire mi fa Quando vede il buon cibo L'anarchica è la sua Ma non combatto io sola Lei, un esercito a tutti e c'è un giro, si rivolta contro di me Oh, tu, chilo, che cresci troppo, ma mi chiedo, non ti guardi mai allo specchio E ti lasci ingannare, d'acqua dolce o quel salato, che ti sembra prelibata Ma tu non tieni conto della mia sofferenza, di non aver la volontà di fronte alla grande bontà Miau, 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 miau Ma alla fine chi se ne frega, per un chilo la soddisfazione, un chilo in più, è una soddisfazione culinaria Ma alla fine chi se ne frega, per un chilo la soddisfazione, un chilo in più, è una soddisfazione culinaria Ma alla fine chi se ne frega, per un chilo la soddisfazione, un chilo in più, è una soddisfazione culinaria E poi quel culinario che diventa sempre più grosso E allora riparte quel melodramma Quella pancia, quel cu che cresce, cresce Avete ascoltato, avete ascoltato la canzone di Lei Chi È, dal titolo culinaria o culinaria Un'occasione simpatica, bella, bella, divertente Ed ora noi proseguiamo con un nuovo artista, un artista che è entrato a far parte della nostra emittente radiofonica Di questo programma del Talent Show alla scoperta dei talenti Di cui saluto gli amici di Rete Radio Network, Radio One Time E tutti i radioascoltatori di Radio 40 Web Nonché Lorenzo Controber quando riguarda Rete Radio Network e Radio One Time Il nostro amico e il vostro amico Fabio Marchi Adesso ci sentiamo un nuovo singolo Lui si chiama Day P featuring Fischietto Con la canzone Non ne posso più Vi ricordo che la coppiata vincente di questa canzone La potremmo seguire anche chi perché volesse domani Nel sabato 29 gennaio 2022 Quindi domani Dalle 21 alle 22 Ci sarà un'intervista live fatta tramite il portale e il social di Facebook Con Day P e Fischietto Che faremo appunto della loro carriera artistica E di questa canzone che adesso andremo ad ascoltare Dal titolo Non ne posso più Quindi anche loro ci hanno lasciato un saluto E detto questo Noi ci sentiamo dopo Mi raccomando non andate via Vi aspetto Non andate via E state con noi Guaglio Grazie della linea Radio 40 Noi siamo Fischietto The Voice Day P Abbiamo creato la scorsa estate Una traccia che dal titolo Non ne posso più Che affronta tematiche sociali importanti Come no alla discriminazione Alla violenza Noi siamo a favore della diversità E come non dimostrare questo Se non attraverso la cosa più bella che esiste La musica Ciao ragazzi Sono Day P Sono un cantautore emergente dalla Sicilia E ultimamente è uscito il brano Non ne posso più Ascoltabile su tutti quanti Le piattaforme digitali Deezer Spotify Youtube Seguitemi sui social ragazzi Instagram A nome D E Y Staccato P Il mio nome è Day P Fischietto The Voice Radio 40 Yeah Ehi Siete pronti? Sono Fischietto E questa non è la solita canzone No Pensi una rivoluzione Noi giovani vogliamo cambiare Per un mondo migliore o speciale Mi dico alle Dio come fare A rimedere alla frattura sociale Il mondo va avanti In piccole cose Indietro cent'anni Dovremmo amarci E rispettarci Come insegna Maestro Gandhi Tra le cose che non sopporto più È la stupidità Nella mente della gente Ma aziona l'intelletto Per cambiare il momento Sta canzone il movimento Le persone sono dentro È dai cent'anni che siamo bloccati Dalle critiche razziali Tra gli stati Tra lo sbarco E degli immigrati Tra i due uomini Fidanzati O sposati Voglio cambiare il mondo Non rimarrò Fermo anche molto Fra l'errore Posso più Sarà la città Che del corpo No Non è vostro Dio Dalle giorni a zero Vieni qui con noi Siamo in tanti Tra Per davvero Per davvero Per davvero Per davvero No Non è vostro Dio Siamo tutti uguali Dopo Hai problemi Sociali Scegli per le strade Scegli un po' di rivoluzione Compa alternativa Scegli sta cazzo Lo vedo Non t'acqua giù Sei stufo Anche tu Allora Seli pure tu Per fare Oh frate Una rivoluzione Scendere fuori Il nome dell'amore E fai capire Che tra donne e uomini Non c'è distinzione Ma Sarò un colore A dividere la nazione Al massimo Sarò un muro Verso la mia direzione Non da lontano Chiuderanno Sarò un comune L'odio è business Per quelle poltroni Io amo i miei genitori Io amo i ragazzi Lì fuori Io amo che si ama Senza fare alcune distinzioni L'amore sarà Tutto uguale L'amore è bello In generale Niente male Frate Ma qua L'amore è bello L'amore è bello